E' stata presentata a Palazzo Santo Stefano la 25esima edizione del Memoria Massimo Mazzetto. Mentre l'assessore allo sport della provincia di Padova, Leandro Comacchio, ha ringraziato gli organizzatori e le società sportive, il presidente del Cone Provinciale, Dino Ponchio, ha ricordato l'importanza dell'evento. Avere memoria storica di chi ci ha preceduto, di chi ha onorato lo sport, fa onore allo sport. Gli organizzatori di questo trofeo, giunto alla 25esima edizione, dimostrano non solo di avere agito sull'impulso del ricordo vicino del tragico evento della morte di Massimo, ma di onorare la memoria nel tempo e questo è molto importante. Auguro quindi, a nome del mondo dello sport padovano, il massimo successo a questa 25esima edizione.